E ciao a tutti ragazzi, sono Loris98. Allora, in queste settimane comincerò a pubblicare ancora effettivamente video di Hardest Game, come vedete dalla copertina questo è Hardest Game 1, quando ero Mr. Loris, quindi ripubblicherò tutti i video di Hardest Game, la serie 1, la serie 2, la serie 3 e la serie 4, quindi adesso godiamoci i momenti migliori di questa serie di Hardest Game. Buona visione! E ciao a tutti! Devo far partire i video anche sul video, anche sul computer se non funziona. Allora, vai! E ciao a tutti ragazzi, sono TheMrAngistar e benvenuti in questo nuovissimo video sul canale. Mr. Loris! Benvenuti in questo nuovissimo video, sempre insieme a TheMrAngistar. Bene, bene. E quindi ragazzi, porteremo un bellissimo gioco che si chiama Hardest Game, prepariamoci. Allora ragazzi, mi raccomando, troverete un altro video sul suo canale se volete andare a vederlo, ovviamente un altro gioco, dopo vedremo bene come, cosa, soprattutto. Ma ragazzi, ora godetevi questo video, le parti migliori. Allora iniziamo. Certo. Questo gioco qua Hardest Game Ever. Play. Questo gioco da un altro vi dico che l'ha portato sul canale di FabiJ, lo trovate in canale, FabiJTV. Allora, vediamo un po'. Vediamo come un gioco in gioco del Mr. Angistar. E dobbiamo arrivare dall'altra parte, quindi attenzione. Allora, facciamo un livello a testa, un tentativo a testa. Ecco, sono già morto, vai, tocca a te. Quindi con le freccette, mi raccomando. Allora, vai. Attenzione. Oh! No! 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 Vabbè, allora, vai, ci riproviamo. Più forti che mai, attenzione. Oh! Oh! Andato. Ok, andiamo avanti. Tocca ancora a me. Eeeh, subito morto. Mi prendo in faccia. Mi metto, ragazzi, no. No, no. Pensi, rag. Attenzione. Bella anche la musica. Sì, molto bella. Cosa che soppanile? Eh, ok, perfetto. Oh, raga, sono schillattivo. Bellissimo. Guarda, guarda, guarda. Oh! Un po' ancora a me, sì? Sì, guarda. Ok, oh mio Dio, qua dobbiamo fare una cosa... ...dificilissima. Nooo. Nooo. Oh no. Da bene faccia, aspetta. Ok, ok, aspetta, ho capito. Oh, più o meno. Devi passare. Sì. Oh no mia. Corri. 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 No. No. Allora, ragazzi, così, così. no ok ok andiamo avanti bene nuova l'uomo a queste facce già parlato ragazzi non è una cosa aspetta ma perchè non è una cosa allora aspetta per ora faccio tutto lo schema nascosto illuminati confermi dovrebbe dovrebbe dovremmo segnare con l'indellin puntini che non colpiscono infatti non riesco partire si infatti oh 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 vai marisco vai vai mi guarda no ah ok continua a toccare continua a toccare a te no ah beh però ricominci davvero e quindi appunto vai vai mi guarda vai mi guarda vai mi guarda vai te mister vai te mister nooo ragazzi nooo 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 ragazzi mancava poco mannaggia nooo nooo ahahah c'è mancanmi sempre ma com'è possibile non lo so non lo so cioè dai che ci aveva fatto quasi michele ragazzi può può farcela eh nooo perchè è tutto filato michele perchè riesco perchè adesso ho capito più o meno come oh shh tu nooo ti vedi no aspetta questo no eh si bravo 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 vai 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 giù 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 si ok si adesso imprende quei robbi gialli però no sopra sopra no no perchè vedi dove è sotto migolo datoci poi facciamo così e poi facciamo in mezzo alla ruota prendo questo ok scappa scappa mamma mia ora dobbiamo tornare sotto sotto si perchè da seguire il senso di una ruota no 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 di sotto ah ma da sopra ma sei sicuro no ma dobbiamo andare lì no questo non ce la faccio raga impossibile no ma ma madonna aspetta eh ma oh perchè non mi sta toccando raga perchè non mi sta toccando non capisco sta roba perchè non mi sta toccando raga non mi sta toccando cosa ma non mi tocca incredibile ma cos'è ma cosa ma perchè non mi tocca ma ma perchè non mi sta toccando raga aspetta eh hai bandato al gioco ma l'onda aspetta ah ah ma l'onda almeno questo dobbiamo finirlo come livello capito si allora siamo qua tutto il giorno raga ah si pur di finire almeno questo livello ok scendi oh 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 ora la domanda è secondo voi secondo voi dobbiamo prendere adesso i due pallini e tornare indietro alla partenza oppure prenderli e ritornare indietro scrivetelo sotto nei commenti subito ce l'abbiamo tutti io direi di tornare indietro da dove siamo partiti si si no dai è dall'altra parte si no dai è dall'altra parte si no dai è dall'altra parte no dai è dall'altra parte no dai è dall'altra parte scusatemi per la tosse voglio precisare tranquillo fatto le camere wow finito dai arriviamo al decimo livello su 30 e poi a costo no dietro dietro bravo dietro 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 oh c'è il pallino di che mi sento c'è il pallino di che mi sento perchè c'è quel pallino lì schifoso in me eh allora avete capito comunque dai su 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 vai 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 no ma ma non seguo più con altri aiutori notate il rumore sembra che ti da una botta in faccia eh già eh ma dai ma dai vado a 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 torni indietro ok perfetto risale da vado all'altra parte imbo mi sono dato in bocca in bocca in bocca ma così quello che prendiamo è la bella dovevo tornare dovevo andare giù dire in fof vabbè dai raga io direi che per questo video è tutto è stata difficile non siamo arrivati fino al dia abbiamo fatto 8 livelli su 30 ma spero comunque se il video vi sia piaciuto ma spero e comunque ragazzi per questo video è tutto mi raccomando se non l'avete ancora fatto mettete un bel mi piace un commento e una bella condivisione e se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al mio canale passate nel suo che ci sarà un altro video in collaborazione per questo video è tutto bello ragazzi saluto da denis rangestare e mister loris bello ragazzi